Live Social Buonasera amici di Radio Melonica, bentornati al desk di Live Social, il desk dedicato ai professionisti, mesteranti o anche solo appassionati della vita di tutti i giorni. Oggi con noi abbiamo Elisa Boscolopelo, buonasera Elisa. Buonasera. Dunque, Elisa è allevatrice Kell Albufera, così si chiama la sua professione, ma nello specifico Elisa, di che cosa ti occupi, che cosa allevi? Allora, Kell Albufera è il nome del mio allevamento, sarebbe l'affisso ufficiale, riconosciuto NCFC, mi occupo principalmente, insomma, le mie razze, sono Azavac e Galgo Espagnol, che sarebbero due razze di levrieri. Ok, ottimo. I levrieri, lo sapete, insomma, lo sappiamo, è una razza, un tipo particolare di razza, solitamente usata per delle corse. Adesso, però, insomma, ha preso anche un'altra piega, c'è anche un'altra occhio, un'altra, come dire, un'altra prospettiva in cui questi animali si riescono a vedere, grazie a Dio, dico bene. Sì, purtroppo, c'è sempre stata, io sono da più di vent'anni che ho questi levrieri, una volta era considerato il levriero magro, dei ricchi, insomma, c'era questa visione che era solo per... Per elitari, insomma. Sì, esatto, infatti, magari giravi per la città, ti chiedevano, oh, ma quanto costa? Adesso è una roba preziosa. Sì, vabbè. Invece adesso, purtroppo, invece si pensa magari che invece è un cane magro sfruttato per questa cosa delle corse, invece non è proprio così, perché anche qua, purtroppo, vince sempre quello che si diffonde di più. E adesso con i social è ancora peggio, perché magari arriva solo un tipo di informazione invece che la totalitaria. Infatti non esiste il tipo levriero, ma esistono le razze levriere, che sono tredici, ben riconosciute, ufficiali. E ricordiamoci che poi queste razze, insomma, sono immutate da secoli, allevate, curate, ben volute, perché sinceramente... Quindi è un po' un falso mito quello del levriero costretto a correre. Sì, un levriero non lo costringe a far nulla. Nulla. Chiariamo questa cosa. Nulla, assolutamente nulla. Assolutamente è stato allevato con questo predatorio sulla preda viva molto forte, infatti quando vede qualcosa che si muove la insegue. È un istinto naturale, portato appunto, ma anche dal punto di vista naturale, perché l'Azavac, ad esempio, una delle mie due razze, è allevato dai Tuareg nel Sahel, nel deserto del Sahel in Africa. Dunque c'è stata una selezione naturale, poco artificiale, non è stato, come dire, che magari uno pensa a qualcosa di molto costruito. No, l'ambiente, in questo caso il deserto, ha costruito questo levriero magro, di suo, perché il grasso non serve, è un accesso inutile. E infatti ancora adesso, se si va nel Sahel dai Tuareg, si possono vedere questi levriere che accompagnano i nomadi sul dromedario, questa visione un po' da Lorenz d'Arabia, no? Bellissimo. Allora, Melissa, ti chiedo, qual è la differenza tra queste due razze che tu curi? Allora, nel mio caso, che sono appunto due delle tredici, l'Azavac, come ho detto, viene dal deserto del Sahel, tra Mali, Niger e Burkina Faso, ed è un cane già costruito molto spigoloso, un cane che caratterialmente si può definire un po' spigoloso. Infatti anche lì si creano questi falsimiti, che è un cane ombroso, diffidente. No, praticamente lui, del mondo esterno, non gliene frega niente. Lui vive per il padrone, il resto anche no. E se ne frega, giusto? Esatto. Dunque, è un cane, infatti io gli dico, se almeno esiste questa cosa padrone-cane, è più un rapporto molto alla pari. Sì, 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 sì. Se gli piace la cosa, la fa volentieri, se no... E se ne frega, bellissimo. Ma no, ci si ragiona assieme, è simpatico. Forse un po' più vicino al gatto, come mentalità. Esatto, bravo, esatto. Infatti ama molto anche il contatto fisico. Se tu sei nel divano, te lo trovi praticamente appresso, appiccicato. Carini. Sì. Poi sono abbastanza aldi. Sì, non sono proprio piccoli, non sono dei gatti. Perché sono algarrese tra i 60 e i 70 centimetri. Poi pesano poco, perché, come vedete, sono magri. Però, insomma, sono abbastanza alti. Invece l'altra razza? Invece il galgo spagnolo, ecco, loro sono un po' più morbidi. Sono più cani, appunto, da caccia, usati ancora adesso in Spagna per la caccia. Dunque, sono più socievoli, diciamo. Dunque, anche stare nel gruppo, non hanno tutti quei lati un po' ombrosi dell'Azavac. Che però, alla fine, anche dire ombroso sembra brutto. Esatto, sembra un po' così discriminatorio. No, diciamo, io dico sempre che con l'Azavac è come avere un fidanzato. Cioè, ci si scontra, ci si va a parte. Invece con il galgo è un amico. Ok. Che ci si va via assieme, ci si diverte assieme. Benissimo. Sono un po' così. Sono così, hanno questi garattori un po' contrastanti tra di loro. Io non potrei mai scegliere, tanti mi dicono, quale preferisci tra i due? Io non potrei mai scegliere, assolutamente. Ascolta, Elisa, ma in Italia la diffusione di questo tipo di cane, com'è messa in generale? Eh, appunto, anni fa, io ti dico, appunto, ho iniziato più di venti anni fa, erano visti come una cosa d'elite, ce n'erano pochi. Adesso, invece, la diffusione è maggiore, però sempre con questa visione delle corse, di salviamo questi cani dalle corse, invece, assolutamente no. Non c'è nessuno da salvare, in realtà. No, perché i cani allevati non sono salvati, sono voluti, ricercati, cioè, assolutamente. Certo, è come da noi, purtroppo ci sono i cani nel canile, perché esistono queste situazioni, ma non assolutamente i cani di razza, che sono, cioè, dietro un lavoro di ricerca, di... Di cura, direi, in generale, no? Sì. Perché tenere un cane di razza, quindi col pedigree, insomma, appare... Esatto, ma soprattutto la salute, cioè, il cane non è solo la morfologia, bisogna che sia selezionato anche il carattere e soprattutto la salute. Ah, ecco. Cioè, la salute è fondamentale, perché noi mettiamo, abbiamo una responsabilità etica, cioè, mettiamo il mondo degli esseri viventi. Certo. Questi esseri viventi speriamo sempre che non soffrano, appunto, di malattie, cose che si possono evitare. Dunque, deve esserci assolutamente uno studio sulle genealogie, le malattie che possono esserci dietro, ricerca genetica, col DNA, insomma, è un lavoro abbastanza importante. Complesso. Sì. Benissimo, allora, Elisa, io ti ringrazio, allora, intanto ricordo i tuoi contatti, così che i nostri ascoltatori possano contattare. Allora, voi potete chiamare il 333-337-8383, oppure andare sul sito kel-albufera.com, oppure su Facebook potete trovare Elisa Boscolopelo, oppure su Instagram kel, scritto con la K underscore albufera, oppure ancora per email elisa-albufera.com. Elisa, ho detto tutto giusto? Hai detto giusto. Benissimo, allora, un'ultimissima domanda per te. Progetti Futuri. Progetti Futuri, appunto, abbiamo fatto queste cucciolate che attendevo da anni, anni e anni, e finalmente ci sono state, ho adesso questi cani che continuano il mio nome, Albufera, che è l'albufera, e vediamo, appunto, se riusciremo di nuovo a farci valere in tutta Europa, nell'esposizione. Ottimo, allora io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi e ti auguro il meglio per la tua attività e per i tuoi cani. Grazie. Grazie ancora. Voi invece non muovetevi di lì perché torniamo prestissimo con tante storie, sempre della vita di tutti i giorni, sempre qui su Live Social, solo e meglio su Radio Veronica One. Live Social Grazie. Grazie. Grazie a tutti.